Dopo gli interventi di riqualificazione realizzati dal Museo Cappella San Severo, l'area compresa tra via Francesco de Sanctis e via Raimondo de Sangro nel centro antico di Napoli si presenta alla città con un aspetto più accogliente e funzionale. Migliorata l'illuminazione, installate fioriere, contenitori in acciaio per la differenziata e sistemate moderne panchine dove è possibile anche ricaricare dispositivi elettronici. Il progetto di manutenzione e valorizzazione dell'area realizzato in meno di un mese dal Museo Cappella San Severo è frutto di una convenzione con il Comune che nell'ambito dell'iniziativa Adotta una strada ha previsto l'affidamento di aree pubbliche ai privati che si occupino delle spese di gestione e arredo urbano. Solo se c'è collaborazione si ottengono risultati che porteranno questa città ad essere la prima città d'Italia. L'appello che noi facciamo è quello di collaborare con noi a mantenerlo adeguatamente così com'è. Bello per accogliere i visitatori, i turisti e i cittadini che devono vivere questa zona, sentirla come propria perché questo è il patrimonio comune, è il nostro patrimonio. I lavori tra Via De Sanctis e Via De Sangro approvati dal Comune e dalla Soprintendenza hanno riguardato anche la risistemazione del manto stradale imbasolato di pietra lavica. Con l'adozione della strada si è proceduto anche alla pedonalizzazione dell'area antistante la Cappella al fine di salvaguardarne l'integrità e migliorare l'esperienza di visita di uno dei più importanti complessi monumentali cittadini. Un grande miglioramento nella qualità dell'accoglienza e dei servizi, diventiamo sempre una città più capace di accogliere ad arte. La Cappella San Severo gira il mondo e porta a Napoli centinaia di migliaia di visitatori. Oggi questa immagine meravigliosa si accompagna anche a un servizio avanzato e moderno di regolamentazione del traffico. Tutto questo è un esempio virtuoso, un modello positivo di collaborazione tra pubblico e privato e speriamo si possa estendere sempre di più per contrastare degrado e comportamenti anticivici e rendere sempre di più la città accogliente per veramente questo impetuoso movimento turistico che da qualche anno ci interessa positivamente e che è un grande fatto positivo per l'economia della nostra città e per i giovani di Napoli. Solo per questa sera in via straordinaria fino alle 20.30 il museo resterà aperto ai cittadini a titolo gratuito. Grazie a tutti.